Campania Sport, buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con l'anteprima, quella che vi accompagna fino al fischio d'inizio di una partita importante perché al San Paolo scendono in campo Napoli e Roma, insomma due squadre che nel corso di questi ultimi anni hanno dato vita a belle partite naturalmente e bei ricordi anche pensando al Napoli. Allora, ne parleremo naturalmente, lo faremo anche per quanto concerne allo Stadio San Paolo con Tittimprota che vedo già collegata naturalmente pronta anche per scoprire fra pochissimo le formazioni ma vado prima ad annunciarvi naturalmente chi è insieme a me qui in questo splendido studio parto da Rino Cesarano, ciao Rino. Buonasera a tutti. Vado dall'altra parte, saluto Umberto Chiariello, ciao Umberto. Buonasera, buonasera. Mister Gigi De Canio, ciao mister. Ciao Francesca, buonasera a tutti. Dall'altra parte, Capitano Beppe Bruscolotti. Buonasera a tutti. Postazione web, Antonio Papa, ciao Antonio. Buonasera, buonasera. Lo vedo male. Vedo tutti pronti, tutti sull'attento. Sono preoccupatissimo per la presenza del mister. Devo dire verità anch'io. Basta che tu non parli di calcio, basta che tu dia solo le notizie senza esprimere giudizie. Se mi scappa qualcosa accetterò le conseguenze. No, non si deve scappare perché devi stare al tuo posto. Accetterò le conseguenze se mi scappa qualcosa. Alla fine già sappiamo come finisce, no? Ma già gliel'ho detto che... Ma tanto finisce allo stesso modo. Dobbiamo fare questa cosa che ogni volta che finisce la smissione tu pigli la trovida paccheriata, va messa su internet subito, sulla pagina. Sarà fatto. Fatemi andare... E la gente vuole rivederla questa cosa. Ma io credo che sia anche per nascere una pagina Facebook. Sì, pensa anche... A Busca Papa. De Canio Maltratta Cose. De Canio Maltratta Papa, qualcosa del genere. No, io non ti maltratto. Educa Papa. Educa Papa. Allora, fatemi andare da Titti in Prota, collegata all'esterno dello stadio San Paolo. Titti, ciao, buonasera. Buonasera, ben trovati. Titti, attenta questo assembramento però. Potete... Attenta tutto questo assembramento. No, assembramenti proprio non è possibile, però vi faccio vedere come secondo il protocollo Covid, insomma, si procede a far entrare i 70 giornalisti accreditati per Napoli-Roma, dopo sapete, insomma, l'accordo che è riuscito ad ottenere l'ordine nazionale dei giornalisti per poter accedere all'interno degli impianti sportivi. L'undici titolare scelto da Gattuso è già ufficiale, con Meret tra i pali, unica non sorpresa perché sappiamo, insomma, viste le condizioni di Ospina, tenuto in maniera precauzionale al riposo che il portiere, sappiamo già, sarebbe stato Meret. Ci sarà, anzi, ritorna Costas Manolas lì in difesa. Al fianco di Coulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui completeranno la linea a quattro. A centrocampo nessuna novità, tutto secondo previsioni, con Fabian Ruiz, Demme in regia e Zelischi sull'altro lato. Lì davanti ritorna Cosè Maria Cajekon, ritorna anche Bilic titolare dal primo minuto con Lorenzo Insigne. Dunque quattro cambi rispetto all'ultima formazione schierata in campionato. Queste le scelte di Gattuso, ricordando anche che la coppia di difesa Manolas-Coulibaly non giocava insieme dal 14 dicembre. La gara era quella contro il Parma, ricordiamo, insomma, non finì proprio bene per il Napoli. Per il resto Manolas alla ripresa degli allenamenti, insomma, ha subito un infortunio e si è visto soltanto a sprazio, ovvero soltanto dieci minuti in campo con la spalla. Queste le ultime, a voi. Iniziamo il nostro giro di commenti per la formazione. Io inizio sempre dal mister per quanto concerne le formazioni. Anche in base a quello che Titti ci ha ricordato sulla coppia difensiva, come vede questa formazione? Credo sia la migliore sotto tutti gli aspetti. In difesa Manolas contro la Roma, se sta bene, era logico che rientrasse anche per le sue motivazioni personali, di ex, pur avendo fatto molto bene Maximovic, ma nel turnover è una soluzione che ci sta. Sono anche convinto che il trio davanti sia quello giusto e il migliore in questo momento, visto che Mertens non è proprio al massimo della sua condizione fisica, con qualche problemino che si porta dietro. Quindi dargli la possibilità o a partita in corso di entrare o addirittura di stare fermo tutta la partita, gli può essere utile. Per il resto credo che siano i giocatori che danno più affidamento sotto il profilo della qualità e della tenuta anche psicologica. Umberto. Partiamo dal presupposto che la coppia Manolas-Culibali doveva essere la grande base su cui fondare un Napoli da scudetto ed è stato invece il grande blef. è stata la più grande delusione di stagione. Hanno giocato poco insieme, ma quel poco che hanno giocato è stato disastroso. Umberto, perché si sono anche allenati poco insieme? Sì, sicuramente. Ma per caratteristiche di entrambi, nessuno dei due è un leader della difesa, nessuno dei due la guida, nessuno dei due è un ex libero per capirci. Sono due stopper, per usare un vecchio linguaggio. E si è dimostrato che questa coppia è male assortita. Fisicamente sono due giocatori straordinari, di velocità, potenza. Però io stasera, devo essere sincero, avrei voluto vedere Maximovic Manolas. Perché la base di partenza dell'anno prossimo è quella. Avrei fatto un turnover con Culibali, che non mi è sembrato eccellente. Molti hanno parlato benissimo di Culibali in queste partite. Non è il Culibali che ricordiamo noi quello straordinario. È un Culibali migliore di questa stagione e per lui disastrosa, perché ha giocato malissimo. Ha fatto una sola grande partita col Barcellona. Per il resto, quest'anno, non abbiamo avuto traccia di Culibali. Perciò sono molto curioso di vedere alla prova una coppia difensiva che è male assortita. Per caratteristiche. Poi è ovvio che se uno ha la possibilità di allenarli, di fare le ripetizioni, di fare tutte le prove del caso, i calciatori sono esseri umani che imparano, ma qua allenamenti non se ne fanno più, perché qui si giocano ogni tre giorni, quindi non si allenano mai. Però sono curioso di vederli. Milic è un cambio, mi pare, quasi automatico. Di esumare Cagliecon è un'altra cosa che mi lascia perplesso. Perché se a fine stagione arriviamo che questo ragazzo straordinario ci saluta, io mi auguro ancora di no. Come dice Mertens, provo ancora a convincerlo. Scusate, ma se non lo vediamo adesso per 8-9 partiti di seguito all'Ozzano, quando lo vediamo più? Io vorrei capire se l'Ozzano è il giocatore da Napoli, perché questi sprazzi recenti ha dimostrato di non essere quel giocatore impalpabile, inguardabile, che a un certo punto della stagione si era rivelato, un puccino spaurito, lo vedevi anche nello sguardo. Adesso vedi un ragazzo sereno, sorridente, che entra in campo determinato, e che mostra delle qualità per le quali è stato apprezzato e comprato. Per esempio, ribadisco la partita a Bergamo, mi sarei aspettato lui e non Politano ad attaccare dietro le linee difensive dell'Atalanta. Se vogliamo poi dire che Gattuso è perfetto, è un santo, non si può criticare niente, allora non critichiamo niente. Se vogliamo esprimere qualche opinione, fermo restando e con una stima infinita di Rino Gattuso, queste sono le mie perplessità. Allora, sulla difesa ovviamente vado dal capitano, e poi passo a Rino anche sulla questione Lozzano e l'idea di Succaieroni. Beh, sulla difesa ha detto molto bene Umberto, perché insomma quelle che possono essere le idee, le prospettive sono quelle, però poi sono altri fattori giornalieri, bisogna vedere le problematiche della squadra durante la settimana, però comunque è un momento anche per vedere Manolas in che condizioni sta, anche per avere un quadro più preciso, puro, perché è un buon giocatore, però durante l'anno ha spesso questi infortuni e quindi bisogna anche pesare tutto questo. Di prima Maximo ci sono tutti e due soggetti, spesso infortuni. Sì, quindi poi bisogna vedere chiaramente chi partirà, perché adesso tutto bene, però alla fine credo che tireranno le somme, perché è una squadra che sta facendo bene tutti, chi ha giocato prima, chi è subentrato. La verità, per certi versi mi sono meravigliato, perché sembrava che Napoli, gran parte di loro potessero già andare da una parte o dall'altra, però qui mi ripeto ancora e dico che la mano dell'allenatore, insomma, ha salvato tutto, perché ha rimesso in cesto tanti giocatori, è principalmente un Lozano, che io qualche giorno fa mi sono espresso pure quando ha fatto giocare Politano, perché francamente esprimo il mio pensiero, perché non voglio eredere nessuno, però siamo qui per dare il nostro pensiero, io lo dico, perché se devo vedere Lozano in queste condizioni e vedere Politano che al 90% di una gara fa la stessa giocata, abbiamo due giocatori completamente diversi, uno che è imprevedibile perché va su tutti e due i lati, una velocità incredibile, punta all'avversario, ma principalmente va verso la porta, l'altro è il contrario, cioè vada solo da una parte, si accendere per poi pentere la palla. Io, per quello che è stato il mio modo di vedere, preferisco un giocatore del genere, perché un giocatore imprevedibile ti può scardinare la difesa, perché un giocatore che al 90% fa sempre la stessa giocata, francamente ai miei tempi ti dirò, lo guardavamo già con gli occhi, non c'era bisogno, che sapevamo già che andava solo da una parte. Lidl mi avrebbe detto ci metto una sedia, ma sì, sì, ricordi la cosa però. Francesca, posso? Sì, poi voglio andare da Rino. Solo un secondo, non per rubare la parola, volevo dire una cosa a proposito di quello che diceva Umberto prima di Coulibaly. Umberto, è difficile che un qualsiasi giocatore possa ripetere delle annate straordinarie allo stesso livello. Setti anni sono tanti. Sono tanti, no? Poi quando si tocca proprio il vertice è molto difficile, soprattutto perché nella espressione di un calciatore ci sono tante componenti e le motivazioni sono l'aspetto più importante. Coulibaly ha toccato dei vertici straordinari, forse è stato probabilmente il miglior difensore al mondo in quella stagione e potenzialmente è ancora uno dei migliori. Naturalmente le condizioni della squadra, l'andamento del campionato, come hai detto tu, sono uomini e deve averlo fatto scemare. C'è una cosa che mi ha deluso di Coulibaly, che è un ragazzo adorabile. Non vuole far scattare Rino. Non vorrei finire con la difesa. Rino è un amico, quindi non vuole farlo dire. Perché poi non vuole tornare anche da Giro. Non vuole tirare le somme. La cosa importante, tutta la questione di Coulibaly è la preparazione, perché signori, non ci dimentichiamo che è arrivata dalla Coppa d'Africa. Una settimana quando si è cominciata a giocare. E lì tradice tutto, perché ti devi augurare innanzitutto che non ti succede niente. e abbiamo visto pure che poi col passare del tempo ha avuto l'infortunio. Qualche infortunio. Cioè è impensabile che un giocatore come lui si potesse far male. Può accadere, però con la sua struttura, con la sua forza, è incappato pure in tutto questo. Perché poi abbiamo visto pure la difesa, perché lui in quelle condizioni, insomma, la difesa ha perso tantissimo. Ma non aveva più quella spinta, quella è l'opera. No, ma io volevo aggiungere su Coulibaly e volevo sapere Lino cosa ne pensa, perché Lino è un acuto osservatore e poi conosce la storia del Napoli molto bene. Coulibaly probabilmente, se volessimo fare una Hall of Fame azzurra, noi dovremmo dire che la coppia Kroll-Coulibaly ha rappresentato il top della storia del Napoli. Quindi stiamo parlando del miglior difensore di tutti i tempi della storia del Napoli. Quindi partiamo da un rispetto totale verso il calciatore e verso il ragazzo, che si è rivelato anche un uomo straordinario. A Napoli addirittura lo volevano capitano, sindaco, è stato oggetto di razzismo, di cori beceri, quindi per carità. Però io sono deluso da Coulibaly, su un piano. Questo doveva essere l'anno del post-Albiol, del salto di qualità di Coulibaly come regista difensivo, come leader della difesa. E invece si è visto che lui con Albiol rendeva il triplo, perché è un grande interprete se viene guidato. Ma se deve essere lui a guidare la difesa ha dimostrato che non sapevo fare. Ma perché lui era uno che impostava molto l'azione, così come Albiol, si pensava che Maloas fosse l'uomo di rottura e Coulibaly l'uomo di costruzione. Invece no. Rino? Sì, anche per fare quello ci vuole anche una maturazione definitiva, una certa personalità, un'adattabilità a fare quel tipo di giocatore. Però io vado in poche parole. Come concettualità di fondo ha ragione Chiariello quando dice proviamo quei giocatori che si sa che restano. E quindi, visto che ci sono queste nove partite, vediamo un po' di che panni vestono lo zano e gli altri due. Ma non lo può fare un allenatore perché un allenatore ha i giocatori a disposizione. Se i giocatori gli danno la disponibilità, lui deve essere, proprio perché predica questo verbo, un allenatore che dice ai suoi giocatori che dobbiamo essere tutti professionisti fino in fondo, lui per primo poi deve dare la dimostrazione di scegliere libero da qualsiasi libero. E quindi, non ha più obiettivi in questa campanella. E quindi, concludo, ragazzi fatemi concludere. Finire bene e vincere tutte le partite che è un obiettivo importante per la costruzione anche di una mentalità. Facciamo un fudere vino così poi vado a vincere. La concettualità di fondo è giusta, ma la logica dell'allenatore che vuole vincere questa partita, che ha degli equilibri consolidati con Caglieon e gli altri, si può anche capire. Perché non ci sono grossi esperimenti in partenza. Evidentemente, lui questa partita ci tiene a vincerla, io ho solamente delle piccole remore sulla tenuta del centrocampo, perché ho visto che i tre lì in mezzo a Bergamo hanno accusato qualche battuta a vuoto alla distanza. hanno iniziato bene. Alan è infortunato. Hanno iniziato bene, poi dopo, quindi lui insiste perché vuole vedere fino a che punto questa squadra riesce ad esprimersi con il supporto di Caglieon che gli viene a dare una mano di là e insegne di là. Quindi è Milik centrale che sta meglio di Merik. Quindi ha una sua logica, diciamo... Io invece sono curioso di rivedere all'opera lo Bottica, perché io ti dico quello che è il mio pensiero. Se vai a prendere individualmente Demme e lo Bottica, lo Bottica vale tre volte Demme, tecnicamente parlando. Ma lo Bottica non ha le caratteristiche. Lo Bottica ha il breve e il lungo, Demme ha solo il breve. Lo Bottica tecnicamente è un giocatore che ha anche accelerazioni in avanti e ha più inventiva. Demme è un giocatore tattico che in questo momento è insostituibile, non sto dicendo, però così come è entrato lo Bottica a Bergamo e ha fatto bene, così come con la Spal ha giocato tutta la partita e ha fatto bene, io penso che lo Bottica possa diventare un calciatore importante di questo Napoli perché Napoli per crescere deve avere giocatori di tecnica superiore. Lo Bottica lo può essere, Demme è un giocatore limitato anche se utilissimo. Sì, sono d'accordo, però stasera attenzione che c'è una Roma che tutti danno allo sfascio. Mi hai dato il destro, anche il sinistro. Anche perché è una grafica vostra, vai tu ci puoi vado a titolo. Dobbiamo dire una cosa importantissima, il Napoli non batte la Roma disastrata di questi ultimi anni da cinque anni. Poi c'è un secondo aspetto, la Roma al San Paolo ci ha dato tanti dispiaceri. Abbiamo la grafica su questo. Noi abbiamo perso uno scudetto nell'88 il sorpasso del Milan, l'inizio della Slavina nacque proprio dalla sconfitta in casa con la Roma, quella maledetta sconfitta da cui si originarono poi tutti i guai del Napoli, che in quel momento era nettamente in testa alla classifica. A Napoli, Zegola l'anno scorso ha fatto il fenomeno, sembrava Van Basten. Cioè la Roma, a Napoli c'era sempre Mentre a Roma abbiamo dei ricordi straordinari. Nel 73, quello parlavo quando ho detto dei ricordi. Nel 73, il signor Bruscolotti ricorderà che segnò Braglia l'1-0 con Vinicio e la gente cantava sugli spalti. Che canzone cantava? Oivito Vitani. Non era un giornale improvviso. No, era Oivito Vitani. Poi fate tornare da Titti. Nell'86, il giorno in cui esordì Romano nel centrocampo del Napoli, Giordano diede una palla straordinaria a Maradona che fece un gol altrettanto straordinario e da lì partì la corsa a Scudetto. E ricorda anche il pareggio di Francini, no? In nove uomini. In nove uomini. E ricordo pure quel maledetto 2-2 del San Paolo che ci costò la retrocessione e fece frenare la Roma per lo Scudetto che poi lo vinse col pareggio di Adolfo. Insomma, sono state sempre partite molto... Infatti, molto, anche molto belle solitamente. Titti, partendo da questo ma anche proprio dal fatto che la Roma come abbiamo visto anche in grafica è stata sempre un po' la bestia nera negli ultimi anni allo stadio San Paolo. Roma che sceglie una difesa a tre questa sera per affrontare il Napoli insomma, stavate ricordando che appunto è sempre stata la bestia nera per il Napoli al San Paolo quindi sarà una gara sicuramente molto attenta. Ritorna Paolo Lopez tra i pali questa è sicuramente una novità per quanto riguarda l'undici del titolare della Roma. Nei tre difesa ci sarà il brasiliano Ibanez con Mancini e Smalling e completeranno invece la linea di centrocampo Spinazzola Vertu Pellegrì e Zappacosta Clivert e Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko anche questa una novità per affrontare il Napoli questa sera però visto che parlavate di Amarcord di altri tempi è bene ricordare che oggi è il 5 luglio e nell'84 nello stadio che vedete alle mie spalle 80.000 persone erano presenti per salutare per la prima volta a Napoli Diego Armando Maradona quindi rivedere oggi dopo tanto tempo lo stadio vuoto ai tempi del covid post lockdown fa sicuramente un certo effetto proviamo perché adesso sta calando il buio però proviamo a mostrarvi con la telecamera di Giovanni Tuffu quello che è solitamente l'ingresso delle tribune per i tifosi del Napoli in questo periodo post lockdown è diventato ecco adesso si accendono anche i fari qui a fuori grotta all'esterno quindi qualcosina in più nei pressi delle forze dell'ordine si dovrebbe vedere è diventato il luogo in cui arrivano gli autobus delle squadre sempre per rispettare il protocollo le norme di sicurezza le squadre devono arrivare un autobus per volta ricordando che sono divise in più autobus e quello adesso è il punto in cui si fermano cioè dove solitamente vi è l'ingresso della tribuna centrale per intenderci tribuna posilipo quella zona lì in modo tale che da lì possono accedere direttamente alla zona spogliatoio insomma così cambia il San Paolo ai tempi del Covid non so se l'avete già ricordato o comunque detto in studio anche di quello che è accaduto relativamente alla partita per il cambio d'arbitro perché a dirigere la gara questa sera sarà Rocchi che è andato a sostituire Di Bello non c'è stata da questo punto di vista spiegazione motivazioni sul cambio del direttore avrà avuto qualche problema di Bello altrimenti non si spiega perché Rocchi è stato impegnato fino all'altro ieri quindi è stato qualche problema piuttosto serio altrimenti non si cambia un designatore un arbitro così quindi non sappiamo per privacy però Di Bello che piace tanto a mister De Cagno non ci sarà mi spiace capire non credo che poi anche per loro è un problema arbitrare ogni tre giorni il caldo tra l'altro Rocchi sta facendo malissimo in questo finale di stagione dove lui abbandonerà e credo che psicologicamente stia subendo il contracconto colpo di questo suo abbandono che speriamo che lo subisce stasera le ultime due partite è stato nel centro di tutte le critiche perché ha arbitrato veramente Di Bello è uno dei dei giovani più bravi più promettenti molto sereno ma deciso è sempre parlato bene sì sì sempre vicino all'azione poi sa essere sempre equilibrato e non quelli che vengono da Brindisi sono sempre piaciuti Vinicio Boccolini La Palma o no sì allora vogliamo riepilogare le formazioni per capire meglio la Roma per esempio come gioca tatticamente a tre a tre dietro e avanti come gioca e i due chi sono dietro Zeko eccole qua Clivert uno è Clivert gioca Mkhitaryan e Clivert Clivert e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko quindi gioca Zappagosta a destra e Spinazzola a sinistra e la coppia centrale è Lorenzo Pellegrini e Veretù quindi Pellegrini 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 gioca nei due e non gioca nei tre dietro non gioca nei due dietro Zeko non è tanto il suo ruolo questo di Pellegrini Pellegrini si esprime meglio quando perché tra l'altro è uno dei migliori assist la novità è l'inserimento del brasiliano ai bagni ezzellini perché Fazzi è uscito l'altra partita per Crampi era malissimo tra l'altro non era idonea dal punto di vista fisico perché questa è una bocciatura di Diavara per esempio perché nei due Diavara ha fatto dei disastri in queste ultime partite clamorosi cioè la Roma è una di quelle che ha perso più palle in uscita nelle ultime partite di tutte e Diavara ne ha perso tante il tanto decandato Under neanche gioca Under non gioca anche perché ormai se ne parla anche interventato io faccio fatica a giudicare un acquisto di Under per un motivo di fondo perché sono convinto che questo ragazzo tecnicamente è fortissimo no forte ma nel suo primo anno alla Roma fece una stagione partì tardi perché inizialmente non era titolare però dopo si prese la maglia e fece benissimo lui ha un sinistro però è all'apolitano cioè gioca a destra ma in mancino e rientra a me sta storia di avere due esterni a piedi invertiti non è che mi faccia tanto piacere perché perdi in profondità se è Lozano no se gioco a Lozano no se tu giochi con è completamente diverso perché sono caratteristiche diverse appunto devi cambiare il gioco ma che cosa l'allenatore chiede alla ma tenere uno che va su tutti e due i fronti è difficile per un difensore quando trovo uno come Lozano così rapido è difficile ti può puntare a sinistra con la destra invece la sai già che ti rientra sul sinistra poi perché ti attacca anche ti attacca alle spalle anche senza palla quando l'azione infatti Cagliacone è un maestro del genere però questo under è un altro parliamone è un altro di quelli che gioca non gioca si infortuna allora se ti esplode hai preso un grande talento però il Napoli a botte di 25 milioni sta buttando soldi con la pala perché perdi 25 milioni Politano 25 milioni non puoi rischiare 25 milioni facciamo così facciamo così visto che c'è un servizio che ha realizzato Antonio Pava proprio sulla questione Udler mentre noi ci prendiamo anche un caffè tra pochissimo perché insomma vedo Luisa qua che saluto abbiamo anche un collegamento Skype veramente importante perché salutiamo un'altra squadra campana che sale in serie A lo facciamo tra pochissimo però visto che ne stiamo parlando guardiamo questo servizio abbiamo toccato un anno fa quando il Napoli dei cugini romani prese Manolas per 36 milioni o meglio 15 milioni cash più il cartellino di Amadou Diavara valutato 21 solo due anni prima l'arrivo di Mario Rui per circa 10 milioni di euro all'insegna di un rapporto di reciproca collaborazione che col passare degli anni sta iniziando a dare grandi frutti tra qualche mese potrebbe toccare anche a Jordan Veretout indicato come uno dei possibili acquisti del topo Allan ma soprattutto a Genghis Thunberg 23 anni nato il 14 luglio del 1997 è un esterno destro di piede sinistro proprio come piace a Gattuso grande promessa del calcio europeo devastante quando trova continuità nelle prestazioni in limite sono dei muscoli un po' fragili che spesso lo hanno costretto fuori negli ultimi anni per lui la Roma inizialmente ha sparato molto alto dando un prezzo di circa 40 milioni di euro in realtà una valutazione realistica si assesta intorno ai 30 cifra che il Napoli proverà ad abbassare ulteriormente provando ad inserire una contropartita tecnica ma stavolta l'affare potrebbe chiudersi anche così senza alcuno scambio grazie a tutti